Salve, questo è il primo video tutorial che si occupa della preparazione di GIF con Animation Shop. Ho aperto già il programma cliccando sull'icona che ho sul desktop oppure se non la trovate cliccate su Start, Tutti i programmi, GESC Software e poi Animation Shop. Adesso andremo con questo primo video tutorial a caricare una GIF già fatta, questo perché voglio farvi vedere come fare un salvataggio perfetto, quindi come settare il programma affinché poi dopo eventualmente in automatico salveremo ottimamente le nostre GIF e poi anche per correggere un difetto che molte volte presentano numerose GIF e andremo quindi a vedere come togliere questo difetto e poi il salvataggio. Molte volte per il nostro sito, per il nostro web, per la nostra grafica ci piace in modo particolare qualche GIF che però presenta un difetto che ora andremo a vedere e vogliamo imparare questa volta ad eliminarlo. Vediamo prima di tutto qual è questo noioso difetto che molte GIF sono portatrici. Innanzitutto dobbiamo capire che ogni GIF è formata da numerosi o pochi fotogrammi, ma sempre più di uno. In questo caso la GIF è composta da due fotogrammi. Questo si evince anche guardando il lato inferiore dove è scritto due fotogrammi e le relative misure. Per selezionare tutti i fotogrammi cliccare su CTRL più A. Per visualizzare visualizza animazione, sembrerebbe perfetta la GIF in un primo esame, invece non lo è, vi mostro perché. Cliccando su animazione, proprietà animazione, se lascio l'opaco bianco, quindi lo sfondo bianco, visualizza animazione, ancora è accettabile, ma se io clicco, intanto torno indietro, se clicco su animazione, proprietà fotogramma e provvedo a inserire uno sfondo nero, perché magari lo sfondo del mio sito è nero, ecco qua venire fuori questo noioso difetto che tante volte siti bellissimi di grafica hanno la GIF che poi, vai a vedere, è così antiestetica, è contornata in questo caso da un contorno azzurro, a volte bianco, a volte comunque un pixel di contorno che assolutamente non deve esserci. vediamo come fare ad eliminarlo e poi provvediamo al salvataggio. Abbiamo detto in questo caso che dobbiamo usare appunto un programma di grafica, io uso Pint Shop, puoi usare Photoshop, quindi file esporta fotogramma su Pint Shop Professional, la GIF la vediamo trasportata sul programma di grafica e come vi dicevo è composto da due fotogrammi, chiudiamo momentaneamente il primo e operiamo sull'altro. Cosa facciamo? Seleziona, seleziona tutto, selezione, selezione, mobile. Vediamo la GIF contornata da tante formichine, è il momento giusto per poi decidere, in questo caso dobbiamo modificare con una contrazione, quindi modifica, contrai, ci chiede la conferma, diciamo sì, di un pixel, mi sta bene, ok. Cosa è successo? La famosa linea di contorno si è contratta, praticamente ha lasciato fuori quel rigo bleh che avevamo prima. Selezione, inverti e poi dalla tastiera premiamo un paio di volte cancelletto e in questo caso abbiamo eliminato quel contorno che avevamo prima. Adesso passiamo alla seconda cornice. togliamo questa selezione, rifacciamo tutto da capo, seleziona, seleziona tutto, mobile, selezione, modifica, contrai, un pixel, seleziona, inverti, cancelletto un paio di volte, seleziona, nessuna selezione. Adesso questi due fotogrammi sono corretti, ho eliminato quella fastidiosa linea. Adesso dobbiamo ritornare di nuovo sul programma precedente, quindi chiudiamo prima la GIF, salvare le modifiche, diciamo di no, aggiornare le modifiche ad animation, diciamo di sì. Torniamo in animation e abbiamo la GIF aggiornata con la riparazione. Andiamo a controllare. Visualizza animazione, ecco, il contorno bleh non c'è più. Adesso questa GIF è opportunamente adatta ad essere inserita su uno sfondo nero. Ok, chiudiamo la visualizzazione momentanea. Dobbiamo quindi salvare questa GIF. Abbiamo detto che la salviamo in un modo ottimale. Seguitemi in un salvataggio perfetto. File, salva con nome, musicisti, ok. Si apre quest'altra finestra, clicchiamo su personalizza. Taglio medio ottimizzato, ok. Diffusione di errore sta bene, però dobbiamo settare 255 colori. Passiamo all'altra ottimizzazione. Queste tre spunte stanno bene, velocizziamo un poco perché altrimenti non ce ne usciamo più. Avanti, 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 fine, ok. Abbiamo salvato la nostra GIF. Questo è tutto. Per oggi abbiamo finito. Abbiamo eliminato quei pixel fastidiosi perché, ripeto, a volte ci interessa proprio, ci piace una GIF. Però purtroppo presenta quel difetto. L'abbiamo eliminato, l'abbiamo salvata perfettamente. Per oggi, con gli altri video tutorial, prepareremo una GIF da zero con tanti esempi tutti simpatici. Seguitemi e vedremo tante belle cose con questo simpatico programma. Arrivederci.